Ciao a tutti ragazzi e come al solito sono Franky ed oggi sono qua per questa nuova puntata di Temple of Nox Questa serie micidiale, multimediale, multiaculturale, insomma cose incredibili, massotontiche e soprattutto interessanti Oggi siamo qua per questa puntata probabilmente se tutto va bene a 60 fps, no? E non ci piace il full HD, non ci piacciono le cose fatte bene Quindi speriamo che, insomma, no, bevosa, piacere sta cosa Comunque siamo all'interno sempre del famoso labirinto, no? Poi il bello è che Minecraft non è un gioco come tutti gli altri Ti lascia proprio nel punto in cui tu te ne vai Quindi noi avevamo staccato, insomma, la registrazione qui nel labirinto E mi ha fatto lasciare proprio qua Quindi io non so neanche dove devo andare Però là c'erano le famose fiamme, no? Delle quattro cose che erano i quattro minerali Cioè l'abbiamo preso lo smeraldo, abbiamo preso il carbone Quindi adesso ci manca il ferro e l'oro E la memoria d'acciaio proprio A me sta piacendo tantissimo questa custom map Spero vi possa piacere pure a voi E nulla, farò tre puntate a settimana Come avevo già detto nei video, tre cose varie Quindi ce ne sarà una il lunedì alle 17 Una il mercoledì alle 17 Una il venerdì alle 17 Oltre ai video normali che escono alle 14 Comunque, buttiamoci A capovitto Adesso il problema è che siamo pure arrivati quasi alla fine Questa è una cosa brutta Se sbagliamo ci dobbiamo decapitare Adesso Madonna, se gettavo la mappa A rigor di logica Io mi dovrei spostare di qua E per forza Ok Ok Adesso A un certo punto Non è forse ancora qui Oddio Ditemi che posso Se vado sempre dritto Oddio che salvataggio Oddio C'ho troppa adrenalina C'ho troppa adrenalina Non dobbiamo assolutamente morire Perché se moriamo No eh No 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 Fermi 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 un attimo Qua non ci stiamo capendo Qua non abbiamo capito Come funziona il mondo Qui pure spavano Sento dei suoni Ma chi Sì vabbè ma che è La lega compagna del giocato Cos'è la lega compagna del giocato Ma quanti Vabbè meno male che non sono spawnati di sopra Bensì sotto Quindi Ciao Allegramente vi posso far fuori eh C'è pure una cosa laggiù Vediamo E Naturalmente Grande Best pro player EU Best Mi chiamavano il migliore Guarda stanza trappola In 05 eh Spariamoci perché Non dobbiamo morire Ecco Adesso c'è il solito rituale Dell'oro Questo giro Eccoli qua I primi Nemici Giù 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 Cos'è questo Questo urlo maschile Vola uno fuori Vedete mi stanno sudando le mani Io ho questo problema ultimamente Che lo devo notare eh Mi sudano le mani Voi adesso direte Ma Frankie ma Forse Per caso c'è la sudurazione alta Non lo so Lo scopriremo soltanto vivendo Però Cos'è I used to be An Ah Gold skeleton È Un avventuriero Per te che ti sei fermato Perché il telefono c'era in mezzo Le mani Mi dà fastidio Devi morire Ok abbiamo preso l'oro Sì Abbiamo trovato anche questo E quindi Dove Ah ma c'era la scorciatoia La scorciatoia Quindi No 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 Fermi un attimo Eh Io gioco No 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 Devo rifarmelo Allora Prima di morire Prima di morire Prima di morire Facciamo così Stupido Ok Adesso abbiamo attivato anche questo Qua Vorrei I momenti di silenzio C'è un problema Per Andare al boss Per attivare il boss C'è bisogno di trovare Un idolo Come l'avevamo trovato Nello scorso Dungeon Che era tipo la testa Del loro scheletro Secondo me È in quell'altra stanza Il problema è che adesso Non mi ci fa ritornare Perché si Mi ha aperto la scorciatoia Qua Ma qui Mi ha chiuso Sto bastardo O andiamo a memoria Il che Guardate se vinco Se vinco Voglio Noi like Infatti avete visto Ho fatto bene a dire Che se vincevo Mi dovete dare I dislike Perché Così adesso Siete costretti A mettermi like Cioè Siamo la forzatura Forzatura mostruosa E mo qua si è riaperta Oh ma Ma decidetevi però eh Ma decidetevi Ah sono ricomparsi i monstri Ecco perché Vabbè Fa niente Allora Andiamo qua Ah vedete Qua ci doveva andare Per forza Perché c'erano Non facciamoci ammazzare Dagli scheletri Ok Occhio Ok Ok E allora Attiviamo L'ultimo rituale Cioè quello del ferro Ecco Vabbè Te pareva No Ciao 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 a tutti Mi è stato un piacere Che bello Che bello Siamo morti Che bello Ma guarda Ringraziate che sto registrando Con OBS Non posso zoomare Non posso zoomare sulla faccia Perché se no esce sgranata No La gente non ha ancora capito Quando monta il video Non capisce che se registri Tutto lo schermo Non puoi fare certe cose Allora Qui adesso sarà riaperta Grazie gioco Per avermi lasciato Questi simpatici bug A sto punto abbiamo tutti i cuori Possiamo pure essere Spider-Man Vai E allora Riattiviamo il rituale Qua Gli scritti sembrano essere morti Fa niente What's up Super Per cose Oh Che ci siamo messi in testa Che ci siamo messi in testa Che ci siamo messi in testa Ecco l'avevo detto Allora Vuoi vedere 50 sfumature di grigio Guarda Non te lo consiglio Il film è molto brutto Ok Vedi è morto Dopo aver visto il film Adesso Spawnerà il nostro simpatico amico Vediamo Eccolo Iron Skeleton Fuuu Pensi di battermi Ma Perfetto Abbiamo trovato anche l'ultimo tributo E come si suol dire Si torna A casa Si torna a casa Vai Via così Quindi abbiamo preso tutti e quattro gli idoli Ce ne possiamo andare Verso il boss Che forse lo facciamo in questa puntata Non voglio fare Perché mi sento una persona amare Cos'è? Chi Chi mi ha I will I will not let you pass Non ti lascerò passare Non posso Si Non hai idea di cosa stai facendo Si ma Ma che è il boss questo? Non ho capito No Questo rega non è il boss Questo è il mini boss Come Come è The Legend of Zelda rega E' proprio uguale Cioè no uguale Vabbè Che poi devo dire A me mi manca giocare The Legend of Zelda Give up I tuoi viaggi finiscono qua Oh senti Ma parliamoci di francamente Allora Tu sei un idiota Seconda Prima cosa Seconda cosa Ecco Sei un mini boss Anche un po' brutto Ed eccolo qui La chiave La chiave La chiave che Getterei qua Eeeh The room is still The air is going You must go deeper And the room is going to be